Bene, benvenuti al nostro secondo appuntamento qui all'ufficio scolastico regionale della Campania perché in questo secondo incontro abbiamo uno dei più illustri giuristi e avvocati nazionali in questo momento che è il professore avvocato Italo Ritorta. Il professore Italo Ritorta è anche stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura e si è specializzato soprattutto nel riguardo del diritto scolastico e ultimamente ha pubblicato degli articoli ovviamente in lingua inglese perché riguardavano anche la comunità europea sull'ultimo concorso dei dirigenti scolastici e anche nella materia europea. Bene, professore, benvenuto, illustrissimo avvocato, se gentilmente vuole illustrarci un po' e andiamo nel dettaglio, nel particolare, e in special modo quest'oggi parleremo e ringraziamo ovviamente tutti gli ospiti e sicuramente tutte le persone che lavorano con dedizione sia al MIUR che all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania ovviamente salutiamo tutti i funzionari e dirigenti di tutti gli uffici scolastici nazionali perché oggi quello di cui il tema di cui parleremo è un tema abbastanza importante, non direi abbastanza ma è un tema importantissimo, è quello della struttura del collegio docenti che non è altro che il cuore della scuola dove si decidono tutte le azioni sia didattiche che, diciamo, personali, soprattutto personali riguardo ai dirigenti. Bene, noi lo faremo in lingua inglese perché vogliamo rimanere a livello internazionale, siamo ovviamente umilmente a vostra disposizione per ulteriori domande. iniziamo subito, avvocato se vuole iniziare in lingua inglese sul collegio docenti, prego. Well, thank you, good evening to everybody, it's a pleasure for me, just a minute, I change position because sabro l'acqua in terra, ca? I hope it was raining, it was raining today. Allo, bec rient? And thank you, who papir, up down, upside down, and like the song of Diana Rose that was, when I was young I was dancing and it was a blondie girl that was dancing. Bene, avvocato, gentilmente si concentri sui suoi appunti. Well, the collegio docenti is composed of all the permanent and non-permanent stuff because somebody can have also capella leash, no? It's not possible that you can see in collegio docenti who people with permanent. There's also people without a permanent because sometimes Imani just understand. Allora, who teacher? Well, professor, please? Allora, composite of all the permanent and non-permanent staff serving on the date of convocation, the teaching staff is an annual collegial body. Eh, po, amma avrei pur si stu body non si è fatto troppo picciarello, not old. Therefore, it decay and it's renewed at the beginning of each school year, a meno che a dirige non è caro, che a capander, with the head on the floor. Because with the need to renew, at least for formal reconfirmation, because o Charlie Parker, o Dizzi Gillespie, without o re, o confirmation fa maggiore, o batteri si già sennariot e non abbiamo nemmeno la nomina ancora. They own essential deeds of the previous year. Well, professor, please, it is convened and shared by the head teacher. As the president of the college, a body with its own competence defini below, the manager is primus inter pares. eh, professore, cosa significa? È una citazione latina. Eh, modestamente, primus inter pares, eh, perché se l'inter è una divagazione calcistica, bah, io preferirei andare avanti, perché poi dicono che sono troppo intellettual. I am too much intellettual. Please, professor, therefore, it expresses not in the hierarchical preeminence, but the specific competence of the management as well as the unitary management of the institution in the balanced protection of the three rights and shared magistrati did I wrote this a bell. Freedom of teaching, freedom of choice for family and the right to learning by pupils, articolo 25, paragrafo 3, legislative decree numero 165 barra 2001, che è quello lungo, originale, diretti. From his position of primus inter pares, it derives that manager exercise the right to vote and that his vote prevails in case of tie between the favorable and opposing in vote by open vote. Perché abitualmente chi è su è voguera, no? ah, when the woman, she, professore, però se lei vuole dirle le cose le dice and you can try to say but please go on because I see that you have a lot of notes here. In case of legitimate impediment of the manager, only in this case the board is summoned and shared by the collaborating teacher delegated to this the convocation of the college is mandatory at the beginning of each school year and therefore at least once for each quarter of them it is again mandatory if the relative request is assigned by at least one-third of the teacher ok? one-third not more the board professore che cos'è la messa a disposizione I explain later because I have to read the papilla the subject which is deliberating are the following didactic functioning of the institute in particular the education and the didactic planning the periodic evaluation of the overall course of the teaching action the adoption of text books the promotion of experimentos initiatives the promotion of updating initiatives for teachers and the planning one the planning and implementation of initiative for the support of disabled disabled e guayune disabled pupils or with DSA non è o dirigente scolastico handicappato ma o DSA no? ha i ragazzi con un bisogno educativo special the integration of foreign students che è il santuante che parla americano in D'Agras and the recovery of Uppupis e molti ragazzi anche srilanghesi che si devono calvare un po' nella classe perché fanno un sacco di bordelli e se se ne va a Marilyn Moore facciamo ancora meglio perché già facciamo proprio più in the following subject formula proposed to the head teacher taking into account the criteria decided by the school council formation and composition of the classes assegnament of teachers to them formulation of the timetable of the lessons in other subject it is an electoral college in this contest the main prerogative was to elect the employees of the head teacher a prerogative cancelled by the entry into force of school autonomy that assigns the school manager the exclusive competence of identifying their collaborators well professor very interesting please also the attribution also the attribution of the election of the committee for the evaluation of the teaching staff service has been reduced following the entry into force of the law 107 barra 2015 articolo 1 paragrafo 100 andatevelo a leggere se no non capite niente è quello che volevo dire a tutti i responsabili di place perché s'attenzione e non capisci non mangi di stock o stock no stock o fish a maz bene professore abbiamo capito cosa vuole dire please on the other hand on the other hand the competence for the designation to the teacher responsible for the instrumental function eh at the level of the training of remained unchanged and most sa pure giove noi viate ombrella ombrella d'umbrella ariana we give greetings to orian perché i like very much who beats autun ombrella eh professore sta piovendo non vorrei che la sua il suo modo di fare provoca eh but i'm not singing why it's eh professore please you have to read just a little bit the activity of the teaching staff frequently intersect with that of the school council from which it distinguished the different general competence a significant paradigm of the exclusive institutional collaboration between the two bodies was until recently the elaboration of the plan of the educational offer opt-off opt-off e kill go don't buy e fa however the law 107 bar 2015 assigned specific competence to the head teacher in the process of drawing o quadro no up the three year plan for the training offer so bene professore quindi si evidenzia che non parliamo più di poff perché ormai con la legge 107 barra 2015 siamo entrati pienamente nel ramo del ptoff ehi e la non mi capite più niente the paragraph 14 articolo 1 of the law that one you say 107 in the year 21 2015 which novella article 3 of the dpr number 275 1999 about the autonomy that is very important perché chi dice l'auto non è me no non è auto non è me è autonomi allora chi non capisce in inglese he doesn't understand english beh professore c'è una grande differenza tra l'auto non è mia o autonomy che sono cose molto molto diverse paragraph 14 article 1 of the law that declares that the plan is drawn up by the teaching staff on the basis of the guidelines for school activities and management and administrative choice defined by the head teacher today the competence of the school council is limited to the approval of the PTOF U P U T A O E AF bene in effetti in italiano è il piano triennale dell'offerta formativa which is which has become a three year term bene professore non è sempre così la dirigente può rimanere a meno che non abbia chiesto il trasferimento based on the rules on the evaluation of pupils issued with legislative decree no decree decree number 62 bar 2017 che è un un articolo è un decreto che è inserito nella 107 veramente sono 59 60 61 62 63 64 65 e non vorrei sbagliarmi anche 66 le due zidelle the teaching staff has the task of defining the criteria and the methods for evaluating pupils and taking care of their inclusion in the three year plan of the training offer thank you very much bene professore it's been a really pleasure è stato un piacere averla con noi la sua cultura e anche il suo modo di fare rimane eternamente nelle nostre registrazioni la ringraziamo e chiudiamo qui il nostro incontro sul collegio docenti grazie a tutti buona serata